Il più cordiale e buon venerdì da Maria Beatrice Trisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. Tony Servillo entra nella lista dei 25 grandi attori del XXI secolo pubblicata dal New York Times e al settimo posto, primo tra gli interpreti maschili europei e unico italiano presente in lista. La top 25 si apre con Denzel Washington, a stirarla i due presigiosi critici cinematografici del quotidiano statunitense, Manola Dargis e Anthony Oliver Scott. È il giornone di Caserta il vincitore per la categoria licei del premio storie di alternanza. L'iniziativa è stata promossa da Union Camere e dalla Camera di Commercio di Caserta. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è stato quello di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola-lavoro attraverso video ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli istituti scolastici italiani di secondo grado. Da remoto, la proclamazione degli istituti finalisti della selezione a livello locale, con la categoria dei licei anche quella degli istituti tecnici e professionali. Si conclude domenica 29 novembre in tutto il Paese la settimana di donazione di Io leggo perché. È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, una raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. Numerose le adesioni dalle librerie casertane in un tale momento di crisi economica e sanitaria. I volumi possono anche essere acquistati a distanza. L'iniziativa Io leggo perché è organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Il libro in redazione oggi consiglia di sangue e di altre cure il mistero di Caravaggio al Rione Sanità di Agnese Palumbo, edizioni San Gennaro, dirette da Edgar Colonnese. Per saperne di più consultare la pagina Facebook di Libri in Redazione. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione.